Queste vanno per... Insomma non ce l'ha l'alberia cambe Sionino Ah... vai Sionino 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 Poi se ne fermo uno dello acca Babbè, il 106 è il numero 108 Come sanno se ne fanno la seconda volta Senti a vento come si? come si? come si? come si? come si? che ci sono i ragazzi? come si? ah ma per quanto la lì tutti in casino non ti fa più non ti fa più che si fa così il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, che cazzo cazzo cazzo? Sì, che cazzo cazzo cazzo? Sì, che cazzo cazzo cazzo? Questa è il piano in parto che vi è spasente, non direi l'altro. La bella cammina. La bella cammina. La sigaretta in bocca, gli importano la sega. La bella cammina. La bella cammina. La bella cammina. Si. La bella cammina. La bella cammina. E lei è finita a capo. Cosa. Che cosa? Grazie. Grazie.